al via la nuova stagione di Tu si che vales. Il talent di Canale 5 ha riaperto i battenti sabato 17 settembre, nessuna rivoluzione rispetto alla scorsa stagione, dalla serie squadra che vince non si cambia, i giudici sono rimasti gli stessi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Jerry Scotti, Maria De Filippi e Sabrina Feriglia a rappresentare il popolo, a condurre riecco il poker formato da Martin Castro Giovanni, Alessio Sacara, Giulio. A proposito della modella argentina, per la prima puntata ha optato per un abito color terra bruciata, tanto semplice quanto elegante, con profondo spacco e addominali in vista. Il capo è stato abbinato a un paio di sandali beige, stringati e con quanto costa l'outfit sfoggiato dalla sudamericana. Non poco, ma nemmeno tantissimo. Non si è in quel rain di prezzi proibitivi per i comuni mortali. L'Isamaya Dress, griffato rete e boa, lo si può mettere nel proprio armadio sborsando 200 e come detto, non una cifra soft, ma nemmeno impossibile. Per quel che invece riguarda le calzature si sale un poco di prezzo e si inizia a lambire la fascia dei prezzi proibitivi. Il Cleopatra Sandals indossato dalla conduttrice ha un costo pari a 335 euro e fa parte della collezione del brand Monroe in Roma, attività specializzata in calzature di lusso. Insomma, in totale la Rodriguez ha vestito capi per 535 cifre proibitive invece se si guarda alle scelte di abbigliamento di Sabrina Ferilli. L'abito Nayan di Maria Lucia Ohan, designer di origini rumene, è acquistabile sborsando ben 1450. Prezzo un poco più ragionevole invece per quanto concerne le scarpe gialle sfoggiate dall'attrice romana, il décolleté blade in vernice, griffato casa dei, lo si può avere spendendo 248 euro. In apertura di puntata, c'è stata l'ospitata dell'oro olimpico Marcel Jacobs che ha dato il via a una gara di velocità in studio a cui hanno preso parte Sabrina. Le due, come al solito, si sono punzecchiate simpaticamente. Sui social in tantissimi hanno sottolineato che le due donne condividono un'amicizia sana e sincera.